Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale youtube, un nuovo aggiornamento dei mercati finanziari cambiamo location ancora una volta perché ovviamente sono sempre costretto a spostarmi un po' in giro ovunque cosa sta succedendo sui mercati? Nulla di nuovo, sempre le solite cose, le abbiamo già parlate ieri e la situazione diciamo quantomeno quella che ci siano già detti, quelle che ci siano già viste sui mercati sui mercati c'è timore, c'è paura, lo vediamo soprattutto da come si muovono i grafici soprattutto da come si muove la volatilità che resta altissima e quindi come vi ho detto già a fine dicembre, oggi il 2022 sarà un anno complicatissimo ma al di là di quello che poteva essere la crisi ucraina o meno di cui ancora non se ne parlava o almeno non se ne parlava in maniera così assidua ma soprattutto perché era giunto il momento per i mercati di chiudere una fase estremamente rialzista malgrado la pandemia è di tornare alla realtà dei fatti quindi aziende soprattutto sopravvalutate, mercati iperpompati, iperdrogati di liquidità e soprattutto ci ha dato a fare i conti con un'inflazione che stava galoppando perché questo è il tema che ci deve assolutamente interessare in più ci sono i segnali di ingresso in recessione ve l'ho già detto qualche settimana fa, gli Stati Uniti stanno per entrare in recessione forse non se ne sono ancora accorti ma è così e sarà così per cui cominciamo a vedere un po' quello che succede sui grafici innanzitutto ed eccoci qua con i grafici questo è Nasdaq ovviamente come al solito e partiamo sempre dall'indice dei tecnologici sapete che candela è questa, questa qua, vedete questa candela qua si ha un nome particolare, ha un nome tutto suo, messa così è una specie di hammer diciamo ma in realtà questa candela qua si chiama paura questo è quello che c'è sui mercati paura perché guardate poco fa era in rosso, adesso è in verde tra poco apriranno i mercati, siamo a 8 minuti dall'inizio perché nessuno sa cosa succederà e nessuno sa come affrontare la situazione ma in realtà non è proprio così, l'abbiamo già visto nelle scorse settimane l'abbiamo già fatta la nostra analisi la nostra analisi ci dice che i mercati sono in ribasso quest'area qua di target, di questo livello qua ormai è stata raggiunta e messa da parte adesso dobbiamo preoccuparci di guardare quest'altro livello di discesa dei mercati parliamo sempre del Nasdaq perché tutti gli altri listini si comportano più o meno poi allo stesso modo e il Nasdaq è solo più volatile perché ieri ha fatto meno 3% e detto questo ovviamente è chiaro che qua ci possiamo attendere esattamente una discesa tipo questa qua, quella che vi ho fatto vedere questo è un impulso ribassista, questo è un impulso rialzista, un ritracciamento e qui ci possiamo attendere un altro impulso ribassista impulso ribassista che potrebbe tranquillamente arrivare a questi livelli qua 12,500, 12,400 ve l'ho già detto per cui occhio a quello che fate nel senso che non è detto che i mercati si possano riprendere in maniera così semplice soprattutto non è detto alla luce di quello che sta succedendo ovviamente poi anche sui confini ucraini perché la notizia è che continuano in qualche modo a spararsi sulle frontiere insomma del Donbass mi fa abbastanza sorridere sono 14 anni che si sparano sulle frontiere del Donbass e non è che oggi è cambiato qualcosa è solo perché hanno puntato le telecamere lì e allora si rendono conto che lì c'è ancora la guerra ma la guerra lì non è mai finita è quello il problema e al dire a quello che ci vogliono far credere o quello che ci vogliono raccontare perché comunque la guerra c'è sempre c'è sempre stata lì e non la risolveranno in maniera facile, semplice quello che dobbiamo guardare ovviamente è quello che succede sulla volatilità ieri guardate cosa ha fatto il VIXN l'indice della volatilità del Nasdaq ieri ha fatto il 12% ragazzi il 12% è una roba altissima guardate qui, vi ricordo quello che ci siamo detti questo è un punto di massimo minimo, massimo più alto del precedente nuovo minimo più alto del precedente nuovo massimo più alto del precedente qui siamo in un trend rialzista trend rialzista confermato da questo minimo più alto del precedente e che adesso qui bisogna capire come si muoverà come si muoverà il rialzo perché è quello il problema dovremo capire come si muoverà questo rialzo della volatilità perché se arriverà a superare quest'altro livello qua ragazzi siamo di fronte a discese abbastanza forti quindi occhio, ovviamente occhio a come muoversi perché in questo momento soprattutto i tecnologici non offrono le garanzie di crescita che avete visto nel 2020 post pandemia e soprattutto nel 2021 in tanti si sono professati grandi traders perché hanno preso il galoppo da marzo in avanti hanno preso quel galoppo lì e poi dopo quando ci sono stati i primi crolli sono stati lì a guardare sono stati lì fermi e dicono, oddio adesso che faccio? vendo? no, non hanno venduto hanno perso parte dei risultati male perché dovevi avere una strategia perché è facile guadagnare quando i mercati salgono il difficile è farlo quando i mercati scendono è lì che si vedono le capacità di un vero trader tutto il resto è favole è noia, è fantasia nel senso sono capaci tutti ad andare dietro ad Amazon quanto sale del 12% o a Apple o quant'altro il problema è andare dietro quando scendono del 12% è quello il bello del trading quindi occhio a questi movimenti perché questi movimenti sono importanti sono molto molto importanti quindi oggi assisteremo innanzitutto è venerdì è l'ultima giornata di contrattazione della settimana e sicuramente assisteremo a una certa volatilità non da poco perché anche qui il venerdì poi si sa che si tende un pochino a tirare i remi in barca e quindi ovviamente dovremo fare attenzione a come muoverci cioè non vi muovete in maniera diciamo impulsiva sono errori che faccio anche io io spesso quando ci sono queste situazioni mi muovo in maniera un po' impulsiva metto da parte la razionalità e siccome sono un essere umano sbaglio e allora ogni tanto faccio delle cagate impulsive ma questo succede a chiunque la razionalità purtroppo non fa parte del nostro essere altrimenti saremo dei computer saremo dei robot e non è così tuttavia se abbiamo delle strategie collaudate che funzionano bene sarebbe bene utilizzarle sempre e lasciar fare alle strategie quando le strategie sapete una strategia che funziona e dite questa strategia funziona ma in questo momento mi dà l'ansia o vi fidate o non vi fidate il problema è tutto lì detto questo sono uscito un po' da diciamo dal seminato qui adesso cosa possiamo aspettarci possiamo aspettarci che qui la volatilità continui finché non si risolve almeno la situazione sul fronte est europeo perché quella parte diciamo da un po' di movimento comunque ai mercati che dà sta preoccupazione soprattutto sui mercati europei non tanto su quelli americani mi preoccupano più di quelli europei e il resto ovviamente ce lo diranno i listini oggi quello che succederà in quel momento abbiamo il Nasdaq più 0,30% l'SP500 meno 0,16 poi abbiamo l'FUSIMIB in questo momento segna 0,31 e solo UK è leggermente positiva UK ultimamente sta andando sempre un po' in controtendenza rispetto ai listini europei e questo è abbastanza curioso Francia meno 0,28 si è rilassato un pochino stanotte l'Asia ha preso un po' di di verbo diciamo almeno sul punto di vista non di tutte le aziende guardate i tecnologici i tecnologici hanno seguito il Nasdaq l'Hanseng Tech ha fatto il meno 3,22% non bruscolini però il resto diciamo dei mercati il CS300 il CNA50 e l'Hanseng hanno fatto più o meno bene anzi l'Hanseng ha chiuso in parità il CNA50 e l'Hanseng ha chiuso in positivo quindi tutto sommato non è andata malissimo però diciamo che per oggi vedremo un po' come lo che succede sui mercati perché qui già cominciano a muoversi le candele in maniera estremamente veloce detto questo subito da dare un'occhiata al rendimento dei treasury a 10 anni che cala cala l'1,93% quindi significa che c'è sicuramente vendita diciamo sui treasury e questo si riflette sui eccolo qua si riflette una riga che mi dà fastidio si riflette ovviamente sui rendimenti in parte questo fa gioco all'azionario perché dà meno pressione diciamo sull'azionario sulle aziende che in qualche modo devono farsi prestare soldi ma dall'altra parte ci dice che il dollaro sta facendo un po' di capricci perché non so bene che strada prendere andiamo a vedere un attimo il dollaro cosa sta succedendo per esempio sul dollaro il dollaro però tutto sommato una strada da prendere ce l'ha ed è ben tracciata guardate qua cosa sta continuando a fare continua a rimbalzare su questa trendline vedete questa trendline dinamica ci ha rimbalzato proprio qui il 10 febbraio adesso guardate oggi ci è andato molto molto vicino ancora qua siamo al 18 è arrivato qui e quindi adesso potremo aspettarci che provi a rimbalzare di nuovo ma qui c'è un ma ovviamente stiamo entrando siamo quasi al termine del mese di febbraio non manca tantissimo e stiamo entrando in quello di marzo dove ovviamente ci aspettano le decisioni della fed sul rialzo dei tassi e questo potrebbe dare un po' di scossoni al mercato del forex soprattutto alle coppie che hanno il dollaro americano come confronto detto questo stanno aprendo i mercati e andiamo subito a vedere che cosa sta succedendo quindi sui mercati partiamo innanzitutto a vederci quello che sta succedendo sulle aziende del Nasdaq eccole qua allora AMA AMD più 1,16% in questo momento è aperto proprio in questo preciso secondo vedete stiamo andando AMD sta venendo a rimbalzare su questa media 200 periodi ormai la sta seguendo come un cagnolino fedele fedele non fa di certo eccezioni invidia che vedete hanno movimenti molto simili e sono incastrate tra le medie veloci della media lenta soprattutto siamo sotto la media 50 periodi significa che siamo entrati in una fase estremamente comunque di ribassi Amazon più 0,32 Apple più 0,96 Facebook più 0,73 0,77 male Intel oggi fa meno 3,76% malissimo direi non so come mai se c'è stata qualche notizia in particolare stranamente non sono informato per cui non so cosa sta succedendo su Intel oggi ma meno 3,68% all'apertura del mercato è davvero qualcosa di strano Netflix 2,11 più 2% vediamo un po' dove è Netflix ragazzi che è un po' che la stiamo seguendo è sempre lì sempre in questa zona grigia vedete non si schioda da quest'area qua e non si schioderà per un bel tempo per un bel po' di tempo dal mio punto di vista per cui anche qui mettetevi l'anima in pace secondo me qui l'azienda dovrà soffrire ancora un po' andiamo a vedere un'altra azienda che ci dà sempre tanta soddisfazione quando scende per esempio Tesla e vediamo un po' cosa succede siamo ancora dentro questo meccanismo siamo a 879 Tesla ieri ha fatto un discreto tracollo adesso siamo più 0,35 ma vedete che continua a stare esattamente poco sopra la media 200 periodi ma sotto le medie veloci questo significa che comunque siamo qui anche qui in un trend estremamente ribassista quindi anche sul Tesla vi ricordo che avevamo già tradato questo rimbalzo dall'area di 800 e l'avevamo preso proprio ne avevamo preso prima lo short e poi siamo andati a prenderci il long e dopodiché siamo usciti perché ovviamente non c'erano le garanzie per poter continuare su questa azienda e adesso cosa facciamo adesso aspettiamo perché a me mi piacerebbe rivedere Tesla su quest'area qua allora quando tornerà su quest'area qua potrei fare di nuovo un'ipotesi di rientro sul Tesla per il momento ancora non sono confidente sul Tesla si stava muovendo discretamente io ultimamente andiamo a guardarcelo il concorrente cinese di Tesla ovviamente come ben sapete si stava muovendo discretamente nel senso che aveva inannellato nelle ultime settimane si è un discreto rialzo vedete avevamo già fatto un'analisi qui avevamo fatto su richiesta di uno di voi eravamo andati a fare proprio un'analisi dicendo che qua poteva essere un ottimo ingresso intorno ai 20 dollari in effetti devo dire che c'era stato un buon ingresso adesso siamo partiti abbastanza male siamo a 2,79 meno 2,79 quindi diciamo che sta un po' scontando tutta questa volatilità soprattutto sta scontando questi rialzi e qui vedete che sta veramente soffrendo sulle medie sulle medie veloci quindi significa che trova davvero tanta difficoltà vedete che continua a stare sotto la media 21 periodi significa che in questo momento siamo ancora in una fase ribassista però pur tentando dei rimbalzi fa ancora fatica vedete a passarci sopra è aperto un sacco di gap guardate qui ce n'è un altro di gap che dovrebbe chiudere non si sa quando ovviamente qui ce n'era un altro che ha chiuso leggermente qui e poi dopo primo piano è andata a scendere ma qui ce n'è un altro che deve chiudere quindi anche questa è un'azienda che va tenuta sotto controllo ma soprattutto bisogna valutare il momento giusto anche per eventuali rientri io qui ero rientrato adesso molto probabilmente dovrò valutare un po' le posizioni perché non vorrei portarmela diciamo in negativo soprattutto perché dopo questi ingressi erano stati vantaggiosi e qui comincia ad esserci qualche pericolo ok vediamo un po' oggi chi altro ci possiamo guardare Shopify Spotify oggi sono negative poi abbiamo Beyond Emit meno 1,74 Mare Stellantis meno 1,04 Fortinet meno 0,5 Eni positiva 0,79 Eni positiva e andiamo a vedere cosa sta succedendo sul petrolio petrolio che segna in questo momento ecco qua segna un bellissimo meno 2,48% che è discesa per il petrolio ragazzi guardate dove è arrivato a toccare qui la media a 21 periodi tra l'altro sul petrolio molto interessante era da vedere questo questo movimento vedete degli RSI dove è andato in opera in ipercomprato qui e qui creando una divergenza ve la faccio vedere guardate qua questa era una bellissima divergenza qui vedete qui il prezzo è salito e qua c'era l'RSI che era praticamente leggermente leggermente diciamo in diminuzione e così come era in diminuzione anche il MACD questo ovviamente poteva essere un segnale di ribasso un segnale tecnico infatti in effetti adesso vedete che sta scendendo il petrolio sta scendendo sta scendendo perché ovviamente era salito tantissimo quindi ha giustamente bisogno di assestare il prezzo poi al di là di quelle che possono essere più o meno le manovre dell'OPEC o quant'altro o le paure internazionali però in questo momento il petrolio deve scendere perché ha bisogno di scaricare le posizioni non ce ne sono di storie o di favole a proposito di favole andiamo un po' a vedere le favole che ci stanno raccontando sul gas ad esempio andiamo un po' a quello che sta succedendo sul gas europeo meno 5% oggi 71 euro megawattora ragazzi siamo ancora altissimi guardate dove eravamo qui ad agosto 2021 eravamo a 45 vorrei farvi vedere dove eravamo qui eccoci qua guardate qui eravamo a gennaio 2021 a 19 guardate dove eravamo l'anno scorso a ottobre a 12 cioè questi prezzi qua non esistono non possono esistere cioè ragazzi ci stanno ammazzando ci stanno ammazzando con l'energia con le energie col costo delle energie ci stanno veramente togliendo i soldi dalle tasche in questo modo qua mi viene da sorridere quando quando leggo le proposte di per cercare di di evitare sta roba qua mi fa veramente imbestialire perché significa veramente che non capisci una mazza perché non puoi arrivare ad oggi qui a febbraio a dire cosa posso fare per evitare questo dovevi farlo qui per la miseria dovevi farlo un anno e mezzo fa perché lo sapevi che il pericolo c'era perché lo sapevi che come stavi messo con le scorte per la miseria io queste cose qua veramente mi mandano in bestia è il motivo per cui chi fa chi fa politica non si dovrebbe occupare di l'economia punto e basta questo è quello che dico io poi dopo ognuno la pensi un po' come vuole bene tra ieri e oggi devo dire che sono abbastanza carico andiamo oltre natural gas oggi il gas bam guardate che bella esplosione 2,48% più 2,57% rimbalzone oggi proprio sulla media 200 periodi e sulla media 21 e guardate qua vedete la media 200 periodi continua a essere un bellissimo supporto per il gas americano e oggi rimbalzone contrariamente a quello che ci si poteva attendere ma in realtà non tanto contrario c'è da dire che le previsioni sul gas possono essere ancora viste in rialzo per tutto il mese di febbraio anche se qualcuno me lo potrà contestare io ho delle posizioni short sul gas perché perché mi aspetto comunque nel breve che non possa continuare a salire tantissimo ho visto le previsioni che dicevano 4,80% addirittura 4,80% se rompe 4,85% siamo a febbraio non fa così freddo non qui da noi ma negli Stati Uniti comunque si fa freddo ma non così freddo come negli altri anni e quindi insomma il problema qua sono le scorte scorte che sono uscite ieri e sono migliori rispetto a quello che ci si poteva attendere infatti ieri c'era stato un po' di calo ma oggi come vedete il gas ha ripreso la sua strada quindi davvero una materia prima da tradare con estrema fatica estrema difficoltà siamo tornati invece a guardare con un certo ottimismo o preoccupazione a secondo un po' di come la volete vedere sul grano perché il grano perché si sta innescando la tempesta perfetta sul grano ovvero abbiamo un problema di forniture abbiamo un problema di forniture di approvvigionamento come sapete bene per questioni di tutta la parte di spedizioni e quant'altro ma abbiamo quindi un problema di produzione e non solo adesso abbiamo un problema del grano russo embargo contro embargo penalità attenzione bitcoin è sceso sotto i 40k questo è un segnale pericolosissimo penalità varie insomma il grano russo che viene esportato principalmente nel nord africa in medio oriente ma non solo certo che con nuove sanzioni potrebbe davvero creare uno scompenso di forniture scompenso di forniture rialzo del prezzo del grano e questo diventa un problema enorme siamo rientrati sul grano proprio sulla rottura di questo livello qua con i copiatori di etoro lo dico proprio perché secondo me è il momento giusto per cercare di capire se qui in effetti possiamo andare a sfidare di nuovo questo livello qua quindi siamo 8 e 22 qua guardate ve lo rimetto qui più o meno 8 e 22 8 e 21 eccolo qua quindi mi aspetto veramente di andare a sfidare prossima settimana di nuovo questi livelli qua e vedremo un po' se ci usciremo addirittura a romperli per cui davvero tanta tanta attenzione qui nel frattempo mi sono uscite delle notifiche che non sto ok c'è stato un po' di caos all'apertura dei mercati mi stavano uscendo delle notifiche così a caso ok quindi qua occhio a quello che sta succedendo quindi anche sul grano perché ripeto ma in un momento veramente di tempesta perfetta potrebbe innescarsi davvero il rialzo dei rialzi e qui ricordo che io per il 2022 avevamo messo in realtà un target un pochino più ambizioso a fine 2021 non ci siamo arrivati ho detto che non era facilissimo però non è da escludere di vedere quei prezzi lì prezzi sono pericolosissimi sono pericolosissimi perché si potrebbero innescare di nuovo tensioni internazionali enormi sul grano ma soprattutto approvvigionamenti delle filiere e gli approvvigionamenti delle filiere sono importantissimi perché significa che pasta pane tutto quello che viene prodotto col grano potrebbe già subito degli aumenti ma potrebbe avere degli aumenti ancora più alti quindi ancora l'inflazione fuori controllo e quindi ancora una volta dover rincorrere un problema i problemi non si possono rincorrere vanno affrontati in anticipo io lo dico sempre e lo dico e lo ripeto bene passiamo oltre oro eccolo qua l'oro allora eccolo qua l'oro 1,8 e 98 ragazzi siamo tornati sopra anzi siamo tornati vicino ai 1900 dollari l'oro io ve l'avevo già detto per il 2022 per me l'oro era assolutamente in rialzo ed eccolo qua infatti l'oro che corre e corre una meraviglia guardate ieri come è corso sul meno 3% del nasdaq sul meno 2% dei listini l'oro ha rotto con decisione questa finalmente per chi insomma investe in oro finalmente insomma questa trend line che lo bloccava in qualche modo e adesso l'ho riportato in maniera molto molto importante vicinissimo ai 1900 e questo è molto interessante da vedere ho detto questo sull'oro ovviamente fate le vostre valutazioni perché anche sull'oro non è detto che vada avanti adesso a correre per tutta la giornata qui se guardiamo gli oscillatori abbiamo che il mac è ancora abbastanza impostato al rialzo abbiamo l'RSI che è un pochino quasi in ipercomprato non tantissimo ha spazio per salire vedete qui ve lo faccio vedere da questo i livelli qua vedete quando siamo arrivati qui eravamo a giugno 2021 quando eravamo arrivati sopra il 1900 al 1910 qui l'RSI era salito ancora un po' quindi qui volendo ancora spazio l'RSI per salire quindi occhio davvero a come operate anche sull'oro allora adesso andiamo a guardarci le criptovalute male 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 allora bitcoin meno 2 ha preso la discesa e l'ha presa in maniera male brutta 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 perché non è esattamente quello che mi aspettavo anzi quello che volevo perché la rottura già di area 42.000 era una rottura pericolosa la discesa sotto i 40.000 lo è ancora di più qui ovviamente non abbiamo ancora finito di soffrire e da questo ce lo stiamo davvero guardando in diretta c'è ben poco da dire o da fare qua ormai c'è da andare di nuovo molto probabilmente a sfidare il livello dei 33 staremo un po' a vedere qui che cosa fare però certo andare a testare di nuovo questi livelli qua non sarà per niente diciamo la cosa più opportuna per bitcoin in questo momento anche perché guardate la market cap che volo che ha fatto ieri la market cap delle cripto vedete come è andata giù è andata giù a piombo perché? perché tutti hanno venduto le cripto perché? perché come abbiamo visto bitcoin si è correlato al VIX si è correlato all'indice della volatilità per cui è correlato sicuramente un po' anche all'azionario da un po' di tempo per cui come si sta comportando tale e quale e non ce ne sono di storie ieri bitcoin ha fatto meno 7% torniamo un attimino qui ha fatto meno 7% il nasdaq ne ha fatto meno 3 quando il bitcoin si muove in quel modo significa che qualcosa proprio non sta funzionando e infatti vedete oggi gli unici territori positivi sono tezos che si muove più 1 e 51% ripple sulla parità elettron sulla parità il resto direi che è un tappeto di rosso a parte cro che poi è diventato kronos il coin di crypto.com è diventato kronos quindi occhio qui che succederanno cose interessanti cioè significa che il progetto si sta espandendo e quindi questo token potrebbe ricominciare a dare grandi grandi soddisfazioni quindi mi raccomando da tenere d'occhio anche il token di cro scusate di crypto.com beh stop diciamo che non c'è altro c'è un bellissimo rialzo di nio oggi 11.62 nio da un po' di giorni sta riprendendo veramente a marciare in maniera interessante certo che arrivate a livelli molto molto bassi insomma livelli intoccati a gennaio 2021 per cui c'era davvero tanta strada da recuperare questi numeri qua che vedete lo so che sono un po' fastidiosi sono i volumi che ho spiegato nel uno dei video precedenti come fare trading con i volumi guardatelo di 2-3 giorni fa non è vecchissimo bene per il momento è tutto non c'è molto altro da dire ci vediamo con i prossimi aggiornamenti come sempre mi raccomando se sono dubbi o domande chiedete sempre sotto nel video trovate tutti i miei link per venirmi a cercare sui vari social soprattutto se volete copiare le mie strategie di trading andate su etoro per tutto il resto mi trovate qui scrivete mettete like ai video aiutatemi a far crescere il canale ci vediamo i prossimi aggiornamenti stay tuned and finger crossed ciao a tutti